In questa guida di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi mostrerò come recuperare i tre pezzi del set dell'armatura da scalata, quindi poi vedremo anche quali sono i relativi bonus, vi elencherò tutto ciò che serve per portare eventualmente l'armatura e tutti i pezzi, insomma, quattro stelle, e vi dirò anche vagamente dove potrete recuperare i materiali. Iniziamo! Il primo pezzo che vi voglio mostrare è anche l'unico dei tre che ho già recuperato, tra l'altro durante uno dei miei primi episodi pubblicati sul secondo canale Shadow TV Legacy, mi raccomando iscrivetevi, e sto parlando della tenuta da scalata, il torso insomma. Andiamo a vedere insieme dove è collocato. Allora, partendo dal Forte di Guardia, si va qua, qua 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 qua, e si arriva alla Grotta della Piana di Hyrule Nord. Io in realtà l'ho esplorata appunto mentre stavo andando al Borgo di Rito, se siete tra quelli che esplorano abbastanza bene potreste già averla trovata. Quindi, beh, richiamoci qua, io usarò il Sacrario. Una volta arrivati alla Grotta della Piana di Hyrule Nord, beh, dovete entrare. Ci sono un po' di nemici, vedete voi se farli fuori o meno. Vorrei provare giusto a stordirli un attimo, così non rompono le scatole. E io posso agire indisturbato. Questo si è addormentato, sì. Più o meno. Emergiamo con Ascensus e andiamo avanti. Qui c'è un altro nemico. Che facciamo fuori? Easy, easy, così. Attraversiamo questo ponte di pietra e poi, dietro la cascata, noterete dei funghi luminosi. Bene. Dietro la cascata c'è un passaggio segreto, insomma. E oltre ai funghi... Ops, è partito. Yunobo, stai calmo. Ha fatto anche staccare il Fiore Bomba. Qua troverete il forziere con la tenuta da scalata, ovvero il pezzo che abbiamo visto prima. Questa. Bene. Ci possiamo dirigere verso il secondo pezzo. Per gli scarponi dobbiamo recarci in una zona completamente diversa, ovvero nelle terre degli Zora, se volete. Prendete quindi il teleport per la torre dell'altopiano Zorana, se lo avete. Comunque, la zona è questa qui. Andiamo. Da questa posizione ci giriamo a sinistra. E ci paravelliamo giù da qua. Ok. Qui c'è una grotta, ma non è quella. Dovevamo scendere ancora. Mede è esattamente qua. Tra l'altro, se seguite... Ups. Questi animaletti di cui non ricordo mai il nome. Me lo dimentico sempre. In pratica, loro ogni volta vi porteranno all'ingresso di una grotta. Quindi seguiteli. Ecco qua. Passaggio per l'altopiano Zorana. Ci sono... Delle cose da prendere, se le volete prendere. Qualche minerale in più non fa mai male. Allora, per andare a prendere il nostro pezzo, andiamo qua sulla destra. Rompi scatole in vista. Occhio. Calmo, eh. Mi stare è molto calmo. Come vedete è di roccia, quindi... Io ci vado pesante con una bella freccia bomba, magari. Ok. Abbiamo rotto il guscio, adesso possiamo anche andare avanti. Lasciamolo lì. Accrogiolarsi. Se va ancora giù. Qui ci vuole invece un'arma da taglio. Questa non credo vada bene. Forse sì. Sì. Andiamo di qua. Qui bisognerà adesso sistemare una certa cosuccia. Che in realtà è molto semplice da sistemare. Basta alzare questo. Farà andare via tutta l'acqua. Aspettiamo, aspettiamo, aspettiamo. Ok. Siamo a posto. Apriamo questo. Perché fa sempre comodo. E poi... Possiamo entrare in questa grotta qua. E prendere il nostro pezzo. Del set. Scarpette da scalata. Non male. Ok. Adesso la velocità è aumentata del 10% durante le scalate. Ultimo pezzo. Che rimane sempre più o meno in questa zona qua. Ma ci spostiamo dalla parte di qua. E dobbiamo più o meno raggiungere questa zona. Quindi vedete un po' voi cosa avete. Io questo sacrario lo prenderò. Allora da questo sacrario qua. Dal parco Mifa. Mi sono semplicemente paravelato fino a qui. La grotta si chiama grotta del Monte Tuono tra l'altro. E l'ingresso è a fianco a questa gigantesca cascata e sotto al lago Mikau. Qui. Dove sono in questo momento. Se avete qualcosa di antiscivolo è gradito. Ma non obbligatorio. Io per esempio non ho nulla. E dovrei farcela lo stesso. Magari con qualche piccola difficoltà in più. Però niente di così impossibile. Ok. Adesso vi faccio vedere la strada corretta per evitare troppi problemi con queste pareti scivolose. Questo forse è uno dei pezzi più brutti. Che incontrerete. E no, non ho niente antiscivolo al momento. Mi devo un po' arrangiare. Ok. Potrei fare da lì ma preferisco andare di là. Così rischio meno. In teoria. Ok. Allora. Sì. Saliamo qua. Molto bene. Qua. Qua. E siamo praticamente arrivati. L'ultimo sforzo, Link. Ok. I fiori luminosi non bastano mai. Ed eccoci arrivati. Neanche i minerali non bastano mai. Toh. Voilà. Bandana da scalata. Allora, con tutti e tre pezzi avremo un aumento della velocità di scalata del 40%, se non sbaglio. Con il primo 20, poi 30 e poi 40. Con tutti invece i tre pezzi, sapete che avete il bonus del set, in pratica consumerete meno stamina quando utilizzerete il salto durante una scavata. Vi faccio vedere. Vi faccio vedere. A parte la velocità, ovvio. Ma vi garantisco che sta sprecando molto meno vigore rispetto al solito. Ok? Quindi è utile molto anche per quel motivo lì. Adesso invece vi faccio un elenco di ciò che serve per il potenziamento. Naturalmente dovete prima sbloccare le fate radiosi. Ho già portato una guida sul canale, la potete trovare tranquillamente. Le quantità che vi darò adesso sono riferite al singolo pezzo. Quindi poi per averli tutti e tre al quattro, moltiplicate per tre, insomma. Allora, per il livello 1 sono necessarie tre ali di pipistrello, che potete trovare, insomma, un po' ovunque. Qua viene segnata la piana di Hyrule e necluda occidentale. Vi consiglio di trovare quegli stormi giganti, magari o nelle grotte, oppure comunque di notte girano, lo sapete. Lanciategli una frecciabomba e li dropperete. Tante ali e tanti occhi, tra l'altro, se ne avete bisogno. Poi, tre scattole, che si trovano nel grande altopiano Gerudo e nella frontiera di Colbacco, in realtà sempre e comunque sulle pareti rocciose. E infine, dieci rupie. Per il livello 2, o comunque per le due stelle, saranno necessarie cinque ali di pipistrello elettrico, che potete trovare nel deserto Gerudo, cinque lucertole Velox, nella piana di Hyrule e nelle colline di Hyrule, e cinquanta rupie. Per le tre stelle, quindi per il livello 3, abbiamo bisogno di dieci raneleste, che si possono trovare nelle sorgenti di Ranel e in necluda occidentale, otto ali di pipistrello glaciale, che si possono trovare nelle montagne di Ebra e sul monte di Ranel, e infine duecento rupie. Per l'ultimo livello, venti viole sprint, che si trovano nelle montagne di Ebra e nella frontiera di Colbacco, dieci ali di pipistrello igno, che potete trovare nelle montagne di Holdin, e infine cinquecento rupie. In generale posso dirvi che potenziare questa armatura fino al livello 4 non è molto conveniente, perché comunque potenziando la cosa andrete ad aumentare la difesa, sostanzialmente, ma non è un'armatura, un set che utilizzerete in combattimento, no? Lo utilizziamo soprattutto per aumentare la velocità di scalata e diminuire la stamina, il vigore richiesto per il salto. E direi che per questo video è tutto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avevate già trovato tutti e tre i pezzi, e se il video chiaramente vi è stato utile. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, e anche sul secondo canale con la serie. Alla prossima!